Marco Milioni, poi andando agire. Potremmo anche future manifestazioni e per noi è un onore, la ragazza. Manosa. Inizio, ci comunque portano il nome di Verona sia in Italia che in Europa. Una manifestazione importante a cui partecipa anche il Verona Femminile. Sì, siamo contenti di partecipare a una manifestazione così importante per la città, come abbiamo visto poco prima nella conferenza stampa, la presentazione ufficiale qui in comune, in questa sala che rappresenta i grandi incontri. Siamo contenti di poter partecipare ad un evento di beneficenza, al quale speriamo che anche i nostri tifosi accorreranno numerosi. Siamo molte società sportive, molte interessanti che rappresentano Verona. e parteciperemo all'evento poco prima della partita, per noi molto importante, del campionato. Speriamo di far bene sia all'evento che alla futura partita.